Ciao ragazzi! Calcoliamo la primitiva di 1 fratto x quadro più 2x più 10 in dx. Osserviamo prima di tutto che questo polinomio di secondo grado è con delta negativo e quindi non si può scomporre ulteriormente. Cerchiamo di riscriverlo allora come somma di quadrati, ottenendo l'integrale di 1 fratto x quadro più 2x più 1 più 9 in dx. A questo punto posso riscrivere il tutto come l'integrale di 1 fratto x più 1 al quadrato più 3 al quadrato in dx. In questo modo posso applicare questa formula tipica dell'arco tangente, cioè che l'integrale di 1 fratto x più k al quadrato più m al quadrato in dx è uguale a 1 fratto m arco tangente di x più k fratto m. La nostra primitiva è quindi un terzo arco tangente di x più 1 fratto 3 più una costante reale c. Ciao!